Questa mattina mi sono svegliata presto per prendere il treno per Torino, visto che nel pomeriggio avrei partecipato all'inaugurazione dell'anno scolastico con il presidente Mattarella. Qui mi sono diretta nell'hotel pagato dal ministero dell'istruzione, dove ho pranzato insieme agli altri partecipanti della mia regione. Bella che truccata, sono partita verso il luogo dell'inaugurazione. Ho partecipato a questa esperienza grazie alla consulta provinciale, che ha permesso a me e ad altri ragazzi delle varie consulte del Veneto di presenziare a questo evento. Siamo arrivati nel luogo indicato due ore prima dell'inizio, poiché poco dopo avrebbero isolato la zona per l'arrivo del presidente. Dopo due ore di evento trasmesso anche su Rai 1, ho potuto godere di un saluto ravvicinato da parte del presidente. La sera, tornati in hotel, abbiamo cenato e trascorso un po' di tempo assieme, per poi andare a dormire e risvegliarci presto. Ecco che qui, con caffè e cappuccino, io in realtà ho preso anche una fetta di torta, ma mi sono dimenticata di mangiarla, ci siamo preparati per visitare Torino prima di tornare a casa. Abbiamo preso il tram e tra l'altro era la mia prima volta, abbiamo lasciato i bagagli in stazione e siamo andati in centro. Scusate per le clip pessime, ma ultimamente ho la mano che trama parecchio. Questa comunque è stata la mia esperienza e auguro a tutti di poterne fare una simile. Grazie. 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 Grazie.